Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Finché i servizi segreti degli esterni non mi staccano le frequenze dell'ustioni con attacchi a vibrazione cardiaca fortissima all'interno dei polmoni e all'interno del cuore, io andrò ad oltranza a denunciare che i servizi segreti degli esterni stanno tentando di ammazzarmi con i sedelli di spia. Da questa mattina quando mi sono svegliato hanno incominciato con lavaggi del cervello, torture e minacce. C'è un generale dei servizi segreti che mi sta parlando in comunicazione telepatica da laboratori che hanno detto loro che stanno all'interno della Farnesina, che io non posso conoscere, e dice che loro si sono nascosti in questi laboratori dentro la Farnesina, cioè il Ministero degli Esteri, dove operano con armi ad energie dirette satellitari in elettroencefalografo trascranico, in elaborazione dati digitalizzata attraverso postazioni occultate in armi di distruzione di massa e in energia diretta satellitare. Sono dovuti andare a prendere delle macchine di servizio nelle caserme rimetrofe alla Farnesina e poi sono dovuti entrare al cambio del turno che è avvenuto alle 7 di questa mattina, hanno dovuto occultare tutti quanti i sistemi per operare attraverso questa tecnologia di manipolazione e di attacco neurale.